e anche Beppe Grillo che tanto sbraita contro la casta ho sentito prendere posizione sull'imposta patrimoniale super ricchi anche perché strizza forse perché teme anche di incappare dalla stessa imposta patrimoniale ma anche personalmente ma anche perché evidentemente strizza l'occhiolino anche lui a un certo tipo di elettorato che preferisce le tasse evaderle, eluderle piuttosto che pagarle Grazie